E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto dal titolo andremo a svelare un altro dei numerosi segreti di Europa. Andando sui trionfi di Europa infatti nella sezione mondo troviamo un paragrafo interamente dedicato ai segreti, la maggior parte sono oscurati ma i primi 4 ci danno qualche indizio riguardo cosa cercare sul pianeta ghiacciato. In particolare oggi parleremo del trionfo a ricongiungere la colonia del Vespro, questo ci chiede di trovare 9 pinguini giocattolo dispersi per Europa e ci permetterà di ottenere una volta completato un libro di lore riguardante un certo Micah Abram, bambino cresciuto su Marte trasferitosi su Europa insieme al padre, scienziato dell'Abrei, e inoltre una statuetta a forma di pinguino che ancora non sappiamo a cosa possa servire. Finora in tutto il pianeta è stato trovato solamente un pinguino giocattolo, per raggiungerlo dovrete esponere al passo di Caronte e seguire la strada sulla sinistra fino al promontario di Cadmo. Qui appena entrati sulla destra troveremo una caverna apparentemente vuota, ma che si riempirà di vex potenti non appena ci entreremo. Una volta uccisi tutti la barriera che ricopriva una delle pareti scomparirà e libererà il nostro pinguino. Ottenuto quindi il giocattolo torniamo al passo di Caronte e entriamo nella porta alla destra della stanza di Varix. Qui potremo esporre il nostro pinguino e ricevere il primo capitolo del libro di lore. Questi pinguini rappresentano il collettivo del Vesprum, dove gli scienziati della Bray e i loro familiari venivano ospitati durante l'età dell'oro, tra cui appunto Maika. Come già detto però al momento non ne sono stati ritrovati altri, ma sicuramente questi si nasconderanno su Europa, quindi tenetevi pronti perché nei prossimi giorni potremo svelarne e scoprire a cosa servirà questa statuetta del pinguino, che forse sia il punto di partenza per una qualche quest, o che magari riesca a sbloccare nuove aree delle strutture Bray. Lo scopriremo con il tempo. Detto questo quindi vi ringrazio per aver visto il video, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su video in uscita. Noi però ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.